Un nuovo appuntamento con la formazione dei giornalisti, un argomento al centro del dibattito è quello del rapporto tra i giornalisti e gli uffici stampa via online. Sì, è il rapporto tra uffici stampa e giornalisti online, ma anche parleremo di giornalismo costruttivo che è un nuovo metodo di giornalismo, viene anche denominato giornalismo delle soluzioni. Cosa significa? Il giornalista deve porre rispetto alla notizia data delle soluzioni e non soffermarsi semplicemente al problema. Questo per dare maggiore fiducia ai lettori e quindi alla società, possiamo dire. Quindi continuano i corsi di formazione dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Ad Agrigento sembra il centro della formazione, lo abbiamo fatto la scorsa settimana con la presentazione del libro L'Imbroglio dei giornalisti Sergio Buonadonna e Massimo Novelli. Continuiamo adesso con questo corso di formazione che ha degli illustri relatori. Ci sarà Deborah Nolino, una giornalista agrigentina ma che vive a Bologna, collegata da Bologna a Sunda Corbo, ma ci saranno anche i nostri Gioacchino Schicchi e Mauro Indelicato. Quindi un corso che sicuramente sarà molto interessante. Ci sono diversi iscritti per parlare appunto di giornalismo, giornalismo costruttivo, giornalismo delle soluzioni. Cambia un po' il mondo, quindi cambia anche il mondo dell'informazione, cambiano le tecnologie, cambia il modo di rapportarsi tra i vari giornalisti e così come tra i vari enti e i giornalisti. Quindi è importante parlare del ruolo degli uffici stampa, è importante parlare del ruolo degli uffici stampa e del rapporto che si ha nel collegare la persona o l'ente che vuole comunicare con chi poi fa il lavoro di redazione. Sembrano aspetti scontati ma appunto il cambiamento dell'informazione, dell'avanzamento della tecnologia, dell'avvento dei social ha radicalmente cambiato tutto. Quindi è bene che se ne parli ed è bene che se ne parli qui da Grigento, città che ovviamente ha molti giornalisti e che ha molti enti, essendo anche un capologo tra enti pubblici e privati. Insomma è chiaro che è bene che anche qui si comprenda la complessità del nuovo mondo. Giornalisti e uffici stampa possono sicuramente dialogare di più e anche meglio e farlo per l'informazione, quindi a beneficio del cittadino, della persona che appunto si imbatte poi nelle notizie. Per cui abbiamo voluto questo corso proprio per darci vicendevolmente degli input, quindi delle riflessioni e poter crescere insieme in questa professione che chiaramente cambia e si evolve grazie alle tecnologie digitali. Qualche buona pratica per migliorare questo rapporto? Certamente una buona pratica riguarda la scrittura delle mail. A volte gli uffici stampa producono delle mail che sono lunghe, che non hanno un oggetto ben chiaro e immediato ad una prima lettura. Per cui sicuramente una buona pratica è quella di utilizzare un linguaggio immediato, chiaro e di condensare la notizia nelle prime righe di un comunicato stampa.